TecnoZoo, voglio il meglio. Sono Giuseppe Barbieri, area manager di TecnoZoo e siamo qua nell'azienda Chioso di Bersani, dei fratelli Bersani, un'azienda da 500 vacche in mungitura, dove stiamo svolgendo da alcuni anni un servizio di raccolta dati per il monitoraggio dell'efficienza alimentare in stalla. L'efficienza alimentare vuol dire raccogliere dei semplici dati che possono essere lo scarico dell'unifeed, il numero di vacche munte e la produzione di latte quotidiana per arrivare a fare delle scelte in azienda che siano dettate da dati oggettivi e non dal semplice dato soggettivo di impressione. Questo servizio è disponibile per allevatori attenti alla propria gestione economica dell'allevamento da 30 vacche fino a 1000 vacche, non c'è un numero di vacche per cui il servizio è più adatto o meno. Spesso gli allevatori si pongono alcune domande mi conviene produrre più 30 litri capogiorno, 35 litri capogiorno oppure 40 litri capogiorno. Queste sono domande a cui possiamo dare delle risposte solo se abbiamo valutato dei dati. Cioè se sappiamo qual è il potenziale fisiologico degli nostri animali e per rispettare questo potenziale fisiologico noi andiamo a valutare appunto l'efficienza alimentare, l'IOFC. Quanto mi rimane per vacca al giorno esclusi i costi alimentari? In euro, proprio è una valutazione di tipo economico. Dall'altra parte riusciamo a valutare anche l'efficienza alimentare come dato strettamente tecnico, cioè quanto mi produce una vacca rispetto alla sostanza secca che ingerisco. iscriviti al nostro canale